Ravenna, così proprio non va. I giallorossi incassano sul campo dell'Arzignano la più cocente delle sconfitte dal loro ritorno nel campionato di Serie D, rendendo ancora più problematica l'operazione salvezza senza passare dai play-out. Una gara, quella persa per 4-0 dai giallorossi, in cui la squadra di Andrea Mosconi non è sostanzialmente mai entrata sul terreno di gioco. Già al settimo, infatti, l'Arzignano coglieva il punto dell'1-0 grazie alla splenida percussione di Chiarello che serviva Trinchieri, abile a trafiggere il portiere Magnani. Non sarebbe stata questa l'unica soddisfazione di giornata per l'argentino, che al diciottesimo infatti raddoppiava. Cross di Marchetti, testa del numero 9, traversa, ancora Trinchieri e gol, 2-0. Nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro, che era tripletta. Altro cross da sinistra, altra deviazione di Trinchieri e 3-0. Un Ravenna che poi rimaneva in dieci, espulso Antoniaci al trentottesimo per un fallo su Simonato, appena prima del gol del definitivo 4-0. Questa volta era Marchetti a trafiggere Magnani con un diagonale vincente. Dopo questo KO, in Ravenna, vede il baratro dei play-out lontano, soli due punti. Servirà ben altra prestazione mercoledì per venire a capo dell'ostacolo Villa Franca e ritrovare la retta via.